In Vico Pergola all'Avvocata, nel quartiere Vicaria, a due passi dalla stazione ferroviaria di Napoli, sono stati assassinati Edoardo Amoroso, di 52 anni, cognato dei fratelli Giuliano ed ex boss del rione Forcella di Napoli, e Salvatore Dragonetti, di 44 anni. Nel cuore di Napoli, zona molto trafficata e in pieno giorno, quattro killer sono entrati in azione e giunti sul posto su uno scooter hanno esploso più di 12 colpi uccidendo sul colpo i due uomini. Dragonetti e Amoroso, ritenuti appartenenti al clan de Mazzarella, abitavano in quella zona. Il primo aveva precedenti perlesioni, contrabbando di sigarette e associazione finalizzata al traffico di tabacchi lavorati esteri, mentre il secondo era soggetto all'obbligo di soggiorno ai sensi della legge antimafia e precedenti per armi, droga, evasione e rapina. L'omicidio potrebbe essere riconducibile allo scontro con i clan rivali dei Contini e Licciardi, ma non si esclude anche la pista della faida interna. Grazie. Grazie.